Ho guidato tre ore e mezza per fitare qui Non avete idea di quanto sia un muro questo quarter, in realtà è più Umberto perché va veramente giù secco. Siamo allo skatepark di Pietrasanta che è tutto in marmo di Carrara. Tutto in marmo di Carrara. È o non è lo skatepark più lussuoso d'Italia? Tra l'altro ci sono anche dei ragazzi di Lugano, Bassano del Grappa, che sono molto forti, quindi va anche di fortuna. Non vedete solo me skateare ma anche della gente che sa farlo davvero. Io starò solo oggi purtroppo in questo skatepark, è davvero una chicca italiana incredibile. È vero la scena di skateboarding all'estero è veramente più avanti ma non ce l'hanno il park, è tutto in marmo così. Era veramente da anni che volevo skateare questo skatepark perché è qualcosa di troppo unico per non passarci almeno una volta, anche due, anche tre, non è per niente male. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questa cosa che è tutto completamente in marmo. qualsiasi cosa, qualsiasi struttura. Per noi skate è un sogno, è veramente un sogno. Purtroppo non è tutto oro ciò che luccica, non fraintendermi, questo park rimane pazzesco, ma forse preferirei definirlo un enorme street skate spot. Divertentissimo da skate, ma non semplice. Con gli anni il marmo si è usurato e gli angolari smussati, oltre al fatto che le forme delle strutture non sono a misura di skate, non credo sia così semplice modellare il marmo a questi scopi. Questo però, secondo me, è proprio il suo punto di forza. Chiudere un trick qui ti dà molta più soddisfazione di chiudere in un qualsiasi altro park. Perché è più difficile, proprio come in uno spot trovato a caso per strada. E poi non si può non ammettere che sia una figata. Ormai siamo qua da un paio d'ore e sono riuscito a fare pochissima roba, mi devo abituare al park, è veramente difficile da skateare. Quindi se siete principianti non è un park per nulla semplice, soprattutto dopo tre ore e mezza di macchina. Il fatto che sei tutto in marmo non significa necessariamente che scivoli. Allora, in conclusione, sono morto. Questo park ti sbompa, cioè non venire qui con l'idea di rilassarti perché ci devi dare tantissimo. Spero vi avrei fatto vivere questo posto al meglio con le mie clip, con le clip dei ragazzi. Se passate da Massa sappiate che c'è questo park che vi aspetta. Yes guys! Sì, all'inno. Sì, ciao. Sì, all'inno. Sì, c'è, c'è. Grazie.